Mi chiamo Egidio Alessandro Grillo, non sono parente con Beppe, ho 23 anni e studio a Napoli all'Università Federico II, Ingegneria Elettrica. Sono alla magistrale e mi manca poco per vedere il figlio. Ciao, sono Luigi Dorsi, ho 27 anni, sono laureato in Ingegneria e in Fristrutture, lavoro nella Sengitering, un'azienda che fornisce assistenza tecnica all'Eni in Valdario. Ciao, sono Roberto Grillo, ho 23 anni, studio Ingegneria dell'Automazione all'Università della Calabria e spero di poter trovare un indietro per dirgli dalla laurea. Sono secondo anno della magistrale. Ciao, mi chiamo Strano Vincenzo Emanuele, presento l'Università degli Studi della Quasi di Carta e sono secondo anno per la facoltà di Geologna. Ciao, sono Mary, ho 33 anni e sono un'insegnante di educazione fisica nel mio centro fitness. Questa è la mia attività principale ma sono impegnata in tanto altro qui a laurea, in una compagnia teatrale, mi occupo di nutrizione e tanto tanto altro ancora da fare. Ciao, sono Domenico Miraglia, ho 29 anni e sono Ingegneria dell'Ambiente del Trinodio e amo viaggiare. Ciao, sono Giacomo Cosentino, ho 21 anni e studio Scienze Veteristiche alla facoltà all'Università di Firenze. Ciao, sono Achille Carlo Magno, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno dell'Università di Firenze. Ciao, sono Diego Schettini, ho 24 anni e sono una specialistica di Scienze Veteristiche. di Scenze Veteristiche alla facoltà all'Università di Firenze. Ciao, sono Giovanna Miraglia, ho 23 anni, ho 23 anni, ho 23 anni e ho 24 anni e ho anche la seguita di realtà pubblicitaria con i video dell'Università. Mi chiamo Nimona D'Igiorno e ho 23 anni e ho 23 anni, ho 23 anni e ho 24 anni e ho 24 anni. Mi piace cantare in particolare, ha buosciato che è sempre attuale. ma sempre attuale. Palve, mi chiamo Rossino Iman, ho 26 anni e sono un neolaureato in cerca di lavoro. La mia laurea è in scienze ambientali e la mia aspirazione è di lavorare in ambito forestale. Intanto coltivo i miei hobby come il teatro, la musica e le manifestazioni culturali del paese. Ho diversi interessi come le tradizioni popolari, il dialetto e tutte quelle che sono le peculiarità di un territorio. Ciao, sono Filar Di Valentina, vengo da Lauria e ho 21 anni. Studio a Firenze e sono al secondo anno di assistenza sanitaria. Tra i miei hobby mi piace giocare a pallavolo, l'ho fatto per 13 anni e leggere romanzi e gialli. Ciao a tutti, grazie! Ciao, sono Veronica Candisani, ho 18 anni e sono nel primo anno di scelte sociali per la scelta del video. Il mio sogno è quello di diventare un'assessuale sociale e quello di costruire il mio futuro nella mia casa donna di cucina. A Lauria! Ciao! Ciao, sono Anna Chiara, ho 23 anni e vivo a Bologna, ma sono originaria di Lauria. Frequento il primo anno della magistrale in ingegneria chimica e oltre a questo vi piace la fotografia, lo sport e in genere leggere qualsiasi tipo di libro. Spero di conoscere gli altri miei compagni di squadra. A presto, ciao! Mi chiamo Rimonci Maria Lucia, ho 22 anni, sono laureata in economia aziendale e lavoro presso un supermercato. Proprio perché sono impegnata in sociale, il mio scopo è quello di valorizzare il territorio. Salve a tutti, sono Rosella Ruggeli, ho 24 anni e sono una studentessa universitaria. Il mio corso di studi è Ingegneria Civile. Grazie per l'attenzione. Mi chiamo Rimonci Scalata, ho 22 anni, sono di Lauria, ma da tre anni per motivi di studio di Vatoma. Sono laureata in geografia, preco l'inversità alla sapienza. Ciao, sono Rimonci Scalata, ho 21 anni, studio Scienze del Servizio Sociale a Cosenza. Grazie per l'attenzione.